Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dell'abbigliamento invernale Millet per trekking, shalpinismo, alpinismo, diciamo che è polivalente, può andare bene un po' per tutto. Vedremo pantalone, piumino e hardshell, ma iniziamo subito col video. Iniziamo come consuetudine dai pantaloni. Sono un modello Millet Summit XCS Pants. Praticamente è un nome lunghissimo, come solito poi vi lascerò tutti i link in descrizione per andare a vedere meglio ogni singolo capo. Ma iniziamo a parlare di questi pantaloni. Hanno una vestibilità abbastanza slim, non troppo slim, fortunatamente hanno qualche centimetro in più. E questo ci serve perché non avendo una grandissima termicità, per intenderci questo pantalone, io sotto gli zero gradi, stando fermo, ho avuto freddo. Mentre camminandoci come temperatura di comfort siamo attorno ai meno 5, dovremo per forza metterci sotto magari una calzamaglia, se troveremo temperature di meno 5, meno 10 o inferiori. E quindi essere slim, ma con qualche centimetro in più ci permetterà di avere sotto una calzamaglia per proteggerci ancora meglio dal freddo. Secondo aspetto che mi è piaciuto molto di questi pantaloni è tutta la parte antiabrasiva che Millet ha messo nei punti critici. Per intenderci, sulle ginocchia, dove magari potremmo andare a sbattere contro qualche roccia, sulla caviglia se dovessimo mettere un rampone, quindi per evitare che il rampone, se camminiamo male, ci possa distruggere il pantalone. Questi punti antiabrasivi li ho trovati veramente molto molto utili. Però in sé il tessuto non mi ha convinto tanto. Il motivo è che si sta sfaldando molto facilmente. Soprattutto lavandolo, senza fare lavaggi particolari. Ho seguito le indicazioni date da Millet nel foglio illustrativo che danno in confezione. E si stanno completamente rovinando. Sono ancora utilizzabili, ma penso che alla lunga dovrò andare per forza a sostituirli, perché veramente il tessuto stanno sfaldandosi. Ma nel particolare cosa troviamo? Allora, per quanto riguarda la parte inferiore, non troviamo una ghetta, ma abbiamo la possibilità di andare a chiudere il nostro pantalone sullo scarpone tramite una cerniera. Io mi sono trovato molto bene, anche utilizzata su neve abbastanza alta. Non è entrata, quindi non c'è problema che possa entrare neve. Per quanto riguarda la parte superiore, la chiusura è fatta da un laccetto singolo che si va a tirare. E anche qua non mi ha lasciato così soddisfatto, perché il laccetto fuori di camminare tende ad aprirsi. Quindi il pantalone tende ad allargarsi. Questo laccetto avrei preferito un pochino più resistente e che si andasse meno ad aprire. Oppure anche la possibilità magari di mettere una cintura. Non essendoci passanti questa cosa non possiamo farla. Per quanto riguarda le tasche, troviamo due tasche nella parte superiore, una destra e una sinistra. Molto facile da utilizzare, con una cerniera che le richiude entrambe. Quindi anche qua, due tasche che tornano sempre utili. Ma non solo, perché troviamo anche una tasca nella parte posteriore, sulla destra. Anche qua, chiuse la cerniera, simile a quelle anteriori, quindi torna sempre utile anche lei. Una cosa che non troviamo sono delle aperture sul pantalone, magari per far uscire l'umidità. In generale io ho notato che quando iniziamo a sudare, il calore resta all'interno di questo pantalone. E se la temperatura magari è da 10 gradi o qualcosa sopra, ci fa sudare parecchio. Ma come performano questi pantaloni? Io in generale mi ci sono trovato abbastanza bene. Non ho avuto problemi di sfregamenti, non ho avuto problemi di irritazione. Quindi nulla di che, l'ho utilizzato veramente tanto, sono mesi ormai che li utilizzo. Mi ci sono trovato bene. Anche dal punto di vista della camminata, anche se si vanno a sfregare in mezzo alle cosce, comunque non è un problema. L'unica cosa, come vi dicevo, questo tessuto sta andando a perdere veramente tanto. Io non lo so, per le pantaloni anche con un prezzo così alto, comunque costano 140 euro se non ricordo male. Mi aspettavo qualcosa di più proprio dal punto di vista della durabilità del tessuto. Passiamo ora a parlare del piumino. Modello Millet Fusion Hair Warm Hoodie. Inizio a darvi qualche informazione proprio tecnica. Allora, questo piumino ha un'imbottitura in Primaloft Silver Eco 100 grammi. Un tessuto in ripstop, ma soprattutto ha una membrana impermeabile in pertex quantum, tutta fatta in poliammide, quindi un'impermeabilità superiore di 10.000 colonne d'acqua. Ma come veste questo piumino? Allora, partendo dal fatto che veste un pochino largo, ma anche perché ha pensato nel caso dovessimo avere sotto diversi strati per proteggerci dal freddo, quindi ci può stare. In generale a me è piaciuta molto la sua vestibilità, perché comunque pur essendo un po' grosso, va a ridursi molto sull'estremità. Quindi, esempio, abbiamo i bordini elastici sulle vani, abbiamo un bordino tutto elastico nella parte inferiore. Quindi comunque, pur essendo abbastanza grosso, non ci intralcia nei movimenti, quindi questo è molto apprezzato. Per quanto riguarda poi gli accessori che troviamo su questo piumino, troviamo due comode tasche all'altezza del petto, abbastanza generose dove andare a riporre le mani per scaldarle. Una tasca interna dove poter riporre magari il telefono per tenere al caldo, ma soprattutto troviamo un cappuccio che non è cosa solita trovare su dei piumini. Cappuccio, anche qua, molto semplice, però molto funzionale perché è decisamente imbottito e riesce a tenerci molto calda anche la testa. Unica cosa sul cappuccio, non ci sono dei laccetti per andare a stringerlo. Forse uno io ce l'avrei messo, proprio per poterlo chiudere bene attorno alla nostra testa. Per quanto riguarda la zip centrale, questa è fatta bene. Io l'ho stressata veramente tanto, però non si è mai rotta, non si è mai impuntata. Mi piace che sia tutto a lunghezza, quindi anche la zip centrale lavora molto molto bene. Ma arriviamo a parlare dell'imbottitura di questo piumino. Innanzitutto questo piumino non possiamo chiuderlo, farlo diventare piccolo, ma ha talmente tanta imbottitura che non riusciamo a farlo diventare veramente piccolo, quindi nello zaino occuperà un certo volume. Questo però, cosa vuol dire? Che ci terrà veramente caldo, perché ha un'imbottitura molto molto performante, soprattutto in Primaloft, come dicevamo. E io vi assicuro che standoci anche tranquillamente a meno 15 fermo, proprio fermo, non ho avuto freddo. Davvero, naturalmente avevo sotto anche altri strati, perché comunque a meno 15 non puoi andare con una maglietta a maniche corte. Però davvero, questo piumino ha delle performance eccezionali. Io lo utilizzerei benissimo anche per fare dei 4000 invernali, senza tanti problemi. Quando lo utilizziamo camminando, anche lì, pur essendo un pochino grosso, non ci intralcia, non abbiamo chissà che problema, quindi è un piumino che si lascia utilizzare nel caso anche durante l'escursione. Molto apprezzata poi anche la membrana impermeabile Pertex. Io col Pertex mi ci sto trovando veramente molto bene come membrana sostitutiva al Gore-Tex e sinceramente apprezzo molto che questo piumino abbia un'impermeabilità per due motivi. Primo, perché comunque, come sappiamo, la piuma è un materiale che quando si inumidisce o si bagna tende a non trattenere più tanto il caldo. Quindi questa membrana impermeabile fa sì che anche se ci dovessimo trovare sotto un po' di neve, un po' di pioggia, il piumino continua a svolgere bene il suo lavoro. Secondo aspetto, appunto, quando ci troviamo sotto la pioggia, quindi noi possiamo portarci questo piumino e se proprio dovesse iniziare a fare due gocce possiamo ripararci con questo senza dover avere dietro un arshell. Teniamo conto però che questo non può sostituire un arshell, soprattutto nel periodo invernale. Ci serve proprio se magari camminiamo in mezzo al bosco e cadeci un po' di neve dagli alberi. Faccio un esempio, ecco, non prendetelo in sostituzione all'arshell che adesso vediamo. In conclusione, per quanto riguarda il piumino, ve lo consiglio? Sì, io mi sono trovato veramente molto bene. Il prezzo è abbastanza alto, costa su 250 euro, però per fare questo tipo d'attività, soprattutto magari l'alpinismo invernale, il prezzo è consono a quelle che sono le sue performance. Naturalmente, se non abbiamo bisogno di una cosa così imbottita, che ci tenga così caldo, che abbia tutte queste performance, possiamo andare a scegliere dei piumini che costano decisamente meno e che tengano un pochino meno caldo. Passiamo infine a parlare dell'arshell, modello Millet Kammet Light Jacket. Innanzitutto parliamo della membrana in Gore-Tex, che comunque è fatto, il Gore-Tex ha tre strati. Il miglior Gore-Tex di tutta la linea che la casa ci può mettere a disposizione. Infatti ha un'impermeabilità, purtroppo non dichiarata, non ho trovato dove lo dicesse, ma dovrebbe essere attorno alle 28.000 colonne d'acqua, più o meno. Che dire, è una giacca per climi decisamente estremi. Ma com'è composta? Come potete vedere troviamo un'apertura con una cerniera che fa praticamente tutta la giacca. La cerniera funziona molto bene, è la stessa che c'è sul piumino, quindi soddisfatto sul piumino, soddisfatto anche sull'arshell. Troviamo due comode tasche nella parte pettorale, dove poter andare a richiudere dentro qualche oggetto. Le tasche si chiudono anche qua tramite cerniera. Ma per il telefono troviamo anche una tasca interna, fatta apposta per uno smartphone, dove poterlo tenere a sicuro dalle intemperie. Continuando troviamo altri due cerniere nella parte ascellare, sotto l'ascella, da poter aprire, se dovessimo utilizzare la giacca e stiamo sudando, per far uscire tutta l'umidità, tutto il sudore, e poter areare. Questa mi è particolarmente piaciuta, perché magari nelle giornate in cui c'è vento, ma fa comunque caldo, poter aprire la giacca e far uscire l'umidità evita di farci la sauna all'interno di questo arshell. Per andare a chiudere le estremità troviamo sulle mani il velcro con lo strap per poter andare a richiuderla per bene. Nella parte inferiore troviamo invece un elastico da andare a stringere, in modo tale che la giacca si avvicini al nostro corpo. Questo evita che quando noi andiamo ad alzare un braccio, entrambe le braccia, la giacca si alzi troppo e ci possa dare fastidio. Per quanto riguarda il cappuccio invece, questo qua è veramente grosso, ma il motivo è che possiamo metterlo anche sopra un casco se dovessimo utilizzarlo per fare alpinismo. Troviamo per chiuderlo due laccetti nelle parti laterali che vanno a stringerlo e anche nella parte posteriore c'è un altro laccetto per poterlo stringere. Il cappuccio ha anche una visera rigida per aiutarci in caso di intemperie e in generale io mi sono trovato veramente molto bene, il cappuccio fatto bene e mi piace molto l'aspetto che noi possiamo metterlo sopra anche al casco. Per quanto riguarda la vestibilità, è un Harchel abbastanza grosso. Come potete vedere, io non sono così grosso, è molto più grosso rispetto a me, ma c'è un motivo. È pensato per essere utilizzato sopra il piumino che abbiamo visto prima, quindi magari tutti gli strati, il primo strato e il secondo strato vogliamo mettere su anche il piumino se proprio dovesse far freddo, bene, possiamo metterci sopra anche l'Harchel perché è abbastanza grosso. Questo abbastanza grosso tende ad essere un pochino fastidioso nel momento in cui magari andiamo a camminare per tanto tempo senza un piumino sotto perché comunque in questo caso avere tanto materiale in più tende ad andare un po' a fastidio. In conclusione, per quanto riguarda i materiali, beh, qui tra la membrana in Gore-Tex e il materiale con cui ho fatto la giacca nulla da dire, davvero sono decisamente il top e top è anche prezzo, nel senso che parliamo di un Harchel che costa 400 euro. Anche qua ha senso comprarlo solo se andiamo a fare delle escursioni alpinistiche magari con un clima decisamente severo, con delle condizioni molto mutevoli del clima. Tiriamo dunque le conclusioni su questo set di abbigliamento invernale di Mille. Allora, a partire dal pantalone che non vi consiglio, non vi consiglio perché non mi è piaciuto il tessuto, come ho fatto vedere si sta praticamente sfaldando pian piano, quindi spendere 140 euro per un pantalone che si sta andando a sfaldare direi di no. Per quanto riguarda invece il piumino Harchel, super consigliati, soprattutto il piumino, mi sono trovato veramente bene e tra i tre capi penso che è quello che mi ha personalmente soddisfatto di più. C'è anche da dire che Mille ha comunque sempre un occhio riguardo all'ambiente, anche questo è sempre un aspetto che personalmente apprezzo tanto. Per il resto, come vi dicevo, vi consiglio Harchel e piumino i pantaloni, lasciateli perdere. Perciò ragazzi, io nella speranza sia stato esaurimento e esastivo anche per questo video, vi ringrazio per averlo guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!